Sono oltre 400 gli studenti delle ultime classi di numerose scuole superiori di Bari e provincia che anche quest'anno hanno festeggiato con il CEAM Bari la giornata mondiale dell'alimentazione, terza edizione per il concerto per la terra tenutosi nella cornice del teatro Petruzzelli, eseguito dal coro del faro del maestro Paolo Lepore con la Jazz Studio Orchestra. Ad accogliere gli ospiti Maurizio Raeli, il direttore del CEAM di Bari, l'organizzazione internazionale che da oltre 50 anni opera nel bacino del Mediterraneo. Obiettivo della manifestazione non solo di contribuire a diffondere il tema promosso quest'anno dalla FAO, le azioni sono il nostro futuro, un mondo fame zero entro il 2030 è possibile, ma anche sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della povertà, della fame e della malnutrizione anche attraverso le testimonianze di esperti internazionali. La manifestazione quest'anno è stata dedicata a Cosimo Lacirigno, la segretario generale del CEAM, prematuramente scomparso lo scorso 2 gennaio, alla famiglia è stata consegnata dal CEAM una medaglia d'oro, a lui intitolata unitamente al ricordo di quanti lo hanno conosciuto. È una giornata molto importante per noi avere qui la possibilità di incontrare tantissimi giovani, parte anche della cittadinanza attiva di Bari e parlare di grandi temi, di temi globali come la lotta alla fame nel mondo e ricordare un grande uomo del CEAM come Cosimo Lacirignola, che usava a dire che non c'è pace in questo mondo senza sicurezza alimentare e non c'è sicurezza alimentare in presenza di conflitti e in presenza di gravi tensioni sociali. Oggi come oggi la fame ha aumentato, durante i tre ultimi anni ha aumentato, a causa dei cambiamenti climatici, una grande causa di questo aumento della fame e anche a causa dei conflitti. Dall'altra parte l'obesità sta aumentando e il sovrappeso sta aumentando e questi due stanno aumentando anche più rapidamente della fame. Oggi come oggi ci sono 672 milioni di persone obese al mondo e l'anno scorso c'erano 620 milioni, è un aumento molto molto rapido.